Complice la consueta diminuzione del numero di test effettuati nel fine settimana, in Campania risale la curva dei contagi. Nell'ultimo bollettino sono 525 positivi con il tasso di incidenza che si attesta al 4,4%, 9 i decessi nel report quotidiano dell'unità di crisi. Dopo la bimba nata prematura, anche la giovane mamma cilentana di 26 anni purtroppo ha perso la propria battaglia contro il Covid. Non vaccinata per due mesi, i medici del Policlinico di Napoli hanno provato a strapparla alla morte. Una donna che era in gravidanza, è morto il bambino già un mese fa, oggi è morta anche la mamma. Questi episodi drammatici ci servono a ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare, perché la sensazione che ho io è che molti ormai guardano al Covid come a un'influenza. Non è così purtroppo e dunque credo che veramente sia un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione. De Luca, che ha presenziato al giuramento di Ippocrate dei giovani medici napoletani al Teatro Augusteo, ha rilanciato le accuse ai Novax e ribadito la necessità di proseguire la campagna vaccinale. Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione senza imbecillità, senza irresponsabilità, sapendo che è tutto nelle nostre mani. Intanto si allarga il focolaio di Villa dei Fiori. Nella clinica di Acerra sono risultati positivi sette pazienti, tra cui anche un neonato, tutti trasferiti nei reparti Covid degli ospedali campani. La direzione sanitaria ha disposto tamponi per tutti i dipendenti.